Pesce trattato con additivi chimici illegali, la polizia di Acireale scopre un'attività abusiva. Nella sede Vescovile di Acireale è illustrato il progetto di Eco Museo, un'opportunità di sviluppo del territorio. Punti playoff in palio domani ad Acireale, tra Acireale e Football Club Messina. Bentrovati con il nostro Tg Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale. Ieri l'Aggiunta Municipale di Acireale ha approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo che ora passa all'esame degli uffici competenti e quindi del Consiglio Comunale. Santa Caterina in stato di abbandono, restiamo ad Acireale, i residenti segnalano cumuli di rifiuti indifferenziati lungo il sentiero naturalistico, acque grandi. Ma non va meglio ad Aci Catena, a degrado anche ad Aci Catena, la spazzatura la fa da sovrana in via Gannelli. Ai nostri microfoni un cittadino del luogo e un consigliere d'opposizione, Davide Quattrocchi. Questo è altro all'interno del nostro Tg. In primo piano dicevamo la cronaca pesce trattato con additivi chimici illegali. La polizia fa un'irruzione in un locale, scopre l'attività abusiva che era gestita da un pluri pregiudicato accese. C'erano grosse quantità di gamberi Alice e Sarde privi di tracciabilità lavorati nei locali di un complesso di edilizia popolare ad Acireale. Un'attività illegale di lavorazione e commercio di prodotti ittici che veniva portata avanti, così hanno accertato gli agenti del locale commissariato da un pluri pregiudicato di 62 anni. Condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso è sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. I blitz scattato un paio di settimane fa ha portato alla sospensione dell'attività. All'interno dei locali sono state trovate quattro persone, tra cui un minorenne, intente alla lavorazione di prodotti ittici privi di tracciabilità, manipolati senza alcun rispetto delle procedure igienico-sanitarie previste dalla normativa e i locali mancanti delle necessarie autorizzazioni sanitarie. I prodotti ittici erano in cattivo stato di conservazione, riposti in vassoi riportanti false etichette e trattati con additivi chimici nocivi alla salute che sono stati sequestrati e distrutti. Nell'occasione il gestore è stato deferito per aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza e consegnalati altri tre soggetti, anche questi i percettori del beneficio. Allarme incendio ieri sera ad Acireale, fortunatamente solo tanta paura e una donna leggermente intossicata che per precauzione, ma solo per precauzione, è stata accompagnata all'ospedale di Acireale. Il bilancio dell'incendio è divampato in un centro riabilitativo in via Davì, nel centro storico di Acireale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento, ad originare l'incendio, a quanto pare un cortocircuito all'impianto di climatizzazione. Acireale lavora al piano di utilizzo del demanio marittimo. La Giunta Lì ha approvato ieri il documento. Un atto di pianificazione che ha la stessa valenza di un piano particolarizzato. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Stefano Lì, ha ieri approvato il piano di utilizzo del demanio marittimo che va a disciplinare le attività consentite nell'area demaniale delle frazioni a mare, vale a dire 30 metri dalla linea della battigia. Un progetto realizzato dall'architetto Nicoletta Nicolosi, che ora passa l'esame dell'ufficio territorio e ambiente per poi approdare nell'aula del Consiglio Comunale per l'adozione preliminare. Finalmente un altro elemento di pianificazione arricchisce questa città. Il piano di utilizzo del demanio marittimo è un piano obbligatorio dal 2005 che ieri è stato approvato dalla Giunta Comunale sul proposto ovviamente dell'ufficio urbanistica e è stato approvato il progetto redatto dall'architetto Nicoletta Nicolosi. È un progetto ampio di sviluppo, di pianificazione, un piano particolareggiato dell'area demaniale che disciplina tutte le attività che si svolgeranno in quella fascia, particolarmente pregiata per il nostro territorio. Disciplinarà le attività, disciplinarà gli spazi per attrezzature sportive, gli spazi rivolti agli utenti e disciplinarà anche degli spazi rivolti agli animali d'affezione. Quindi è un piano ampio che cerca di raccogliere tutte le esigenze che una società moderna, un comune moderno e importante come lo 10 Reale, deve sicuramente avere. È un piano che, superato il vaglio dell'UTA, che è il primo passaggio che dovrà fare, approderà per la doccia preliminare in Consiglio Comunale e sarà proposto ai cittadini per le osservazioni che i cittadini vorranno proporre a questo piano, come avviene su tutti gli elementi di pianificazione. Santa Caterina in stato di abbandono. I residenti segnalano cumuli di rifiuti, abbiamo detto, lungo il sentiero naturalistico Acque Grandi. Non siamo di AC Reale. Esordiscono così i residenti di Santa Caterina che si sentono completamente abbandonati. È stato segnalato alla nostra emittente lo stato di abbandono in cui versa uno dei pochi sentieri naturalistici accessi. Si tratta di Acque Grandi, meglio noto come Acquaranni. Quello che un tempo fu un luogo a meno, che sposava il verde di una natura incontaminata e l'azzurro del mare, si è ridotto adesso ad un vero e proprio ricettacolo di rifiuti. Dal corposo materiale fotografico inviato ci si nota che sacchi di spazzature e rifiuti di ogni sorta regnano sovrani e proliferano indisturbati tra erbacce e rovi, soprattutto nel tratto tra le termine di Santa Caterina e il sentiero Acque Grandi. I terreni privati, non recintati e in stato di abbandono, sono quelli maggiormente presi d'assalto. L'incivile di turno, con la complicità della totale assenza di illuminazione pubblica, si permette di gettarvi di tutto. Un problema che si protrae da tempo, ci spiega chi segnala, e che si è accentuato dopo la chiusura delle terme. Quella zona, nel mirino dei maleducati, è stata trascurata e considerata solo una periferia. Il residente sostiene di aver fatto diverse comunicazioni agli uffici e di essersi rivolto più volte al primo cittadino, ma ad oggi nessun intervento è stato posto in essere. Attualmente il pezzo della riserva orientata che va dalle termine di Santa Caterina fino ad Acque Grandi è totalmente all'abbandono, niente illuminazione. Non è una microdiscarica, è un chilometro di microdiscariche. C'è di tutto, copertoni, resti di macchine, Ethernet, spazzatura di tutti i generi. Abbiamo contattato decine di volte, abbiamo mandato messaggi all'attuale sindaco, l'assessorato e l'assessore, lasciamo stare perché mai, in due anni e anche negli anni precedenti, ripeto, anche negli anni precedenti, quella zona è sempre stata un ricettacolo di microdiscariche, una zona che dovrebbe essere completamente tutelata. Noi non sappiamo più veramente che cosa fare e si parla poi di ambiente, di microplastiche e di altro. Noi siamo basiti. Sarebbe dovuto essere un luogo ad alta vocazione turistica, invece così non è. Un sentiero orientato con tanto di cartelli che illustrano la flora e la fauna endemica, sciupato e depauperato della sua stessa bellezza. Oramai non solo il sentiero estremino di spazzatura, questo che va da Santa Catarina ad Acque Grandi, ma anche i sentierini che portano al bel frontizio della timpa, Acque Grandi e Acque del Ferro, sono oramai inaccessibili perché sono stati messi i cartelli, ordinanza dell'assessorato territorio e ambiente, non sono più percorribili. C'è un divieto, non sappiamo niente, è tutta una zona oramai fra spazzature e divieti, invivibile. Questo è fare turismo e portare quello che chi attualmente amministra tanto vantava e sbandierare. Prima bellissimi posti, turisticamente dobbiamo farli rivalutare, dopo il nulla. Abbiamo interpellato l'assessore all'ecologia e all'ambiente Daniele La Rosa, il quale ha ammesso che la zona di Santa Caterina purtroppo paga le conseguenze dell'inciviltà. Nelle ultime settimane ha fermato La Rosa, tutti, ognuno con il proprio ruolo, ci siamo mobilitati per la riuscita del carnevale. Adesso abbiamo preso a pieno regime il nostro solito operato. Giovedì, ha dichiarato l'assessore, è stata protocollata una richiesta alla Tecra affinché provveda la pulizia straordinaria di alcune aree diventate ormai delle vere e proprie microdiscariche. Tra queste è stata inserita anche l'aria in questione. In tanti ci richiedono di installare dei dispositivi di videosorveglianza, ha proseguito La Rosa, anche io sono d'accordo, ma è un intervento che richiede tempo e fondi a disposizione ed inoltre non è detto che questo migliori la situazione. Non saranno le telecamere, a mio avviso, ad insegnare la buona educazione ai furbetti che potrebbero andare a conferire rifiuti a distanza di poche decine di metri dalla zona videosorvegliata. Infine, l'invito che l'assessore rivolge a tutti i cittadini è quello di non usare i social per denunciare situazioni importanti. Si preferisca fare delle comunicazioni ufficiali facendole passare dall'ufficio protocollo. Dall'SOS di Santa Caterina ad Acicatena, dove non va meglio in via Gannelli, la spazzatura regna sovrana. Degrado ad Acicatena, rifiuti di ogni tipo lungo la via Gannelli, una strada di collegamento con ACI San Filippo. È un SOS che parte proprio da un cittadino del luogo che segnala uno stato di abbandono che i residenti non riescono più a tollerare. La situazione è veramente di degrado e pietosa, con la presenza di immondizia, di spazzatura, di erbacce e rovi. I cittadini chiedono di avere una pulizia standard, minima, qui, però è lontanamente immaginabile qui ad Acicatena con questa amministrazione. A raccogliere la segnalazione dei residenti è stato il consigliere Davide Quattrocchi che sollecita l'amministrazione di intervenire al più presto. Torniamo ancora una volta in via Gannelli dopo la segnalazione fatta diversi mesi fa assieme al consigliere Franco Giannetto. Abbiamo modo di registrare come effettivamente il verde pubblico sia stato curato e sappiamo quante difficoltà ci sono. Purtroppo non possiamo fare altro che registrare ancora la presenza di micro e macro discariche che spesso tra l'altro vengono date alle fiamme. Onestamente da un punto di vista politico non possiamo fare altro che cercare di chiedere all'amministrazione di tutelare maggiormente l'interesse dei cittadini alla salute pubblica evidentemente e magari di stare meno attenti agli avvicinamenti politici che in questi giorni, in queste settimane hanno evidentemente spostato l'attenzione su altre materie. Queste sono le cose che servono i cittadini, queste sono le cose che i cittadini chiedono e ad oggi Acicatena purtroppo, lo dobbiamo dire, non riesce, questa amministrazione non riesce a garantire le esigenze minime dei cittadini. Parliamo d'altro, a Giarre da domani cambia la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Sarà la ditta IGM e non più la Dasti ad espletare il servizio. Al momento restano invariati il calendario di raccolta e le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Ringrazio la ditta Dasti, ha detto il sindaco di Giarre, con i suoi dirigenti, sempre attenti alle esigenze operative manifestate dall'amministrazione e tutte le maestranze per la fattiva collaborazione fornita. Nel corso di questi anni abbiamo portato avanti varie iniziative, vorrei ricordare le azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti alla cittadinanza, così come gli interventi di scerbatura e bonifica di varie discariche abusive e l'istituzione dell'isola ecologica itinerante. Auspico, aggiunge il sindaco Angelo Danna, che tutto il lavoro svolto costituisca un punto di partenza per conseguire ulteriori miglioramenti e il traguardo di nuovi obiettivi raggiungibili con una fattiva collaborazione con la nuova ditta subentrante. Si sono svolte ad Acireale, con vasta partecipazione di iscritti, le elezioni per il rinnovo degli organi di vertice dell'Associazione Forense Acese. Risultati eletti Maria Carmela Barbagallo, Pierfrancesco Continella, Francesco Grasso Leanza, Giuseppe Lofaro, Alessandro Patanè, Francesco Patanè, Roberto Pavone, Giuseppe Scaccianoce e Mario Tornatore. I votanti sono stati 97 con il nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per due anni. Nella prossima riunione i consiglieri eletti esprimeranno il presidente e le varie cariche. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria subito dopo gli altri argomenti. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse, le scarpe, le borse e pure gli accessori. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse per uomo, per donna, ma anche per bambini. Se vuoi camminare comodo davvero, vieni da Ulisse e ti togli il pensiero. Comodi, con Ulisse si può. Un grande assortimento, un grande parcheggio e tanta qualità a prezzi convenienti. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale, a Cireale. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse, vieni da Ulisse, scegli noi Ulisse. Sono iniziati i saldi. Nuova farmacia Piano Dati. La farmacia non è solo per l'esigenza del farmaco. Oggi in farmacia trovi il consiglio dei professionisti che possono aiutarti a risolvere ogni tuo problema. Nuova farmacia Piano Dati vicina a te, vicino all'uscita del casello autostradale di Acireale, a poca distanza dal centro della città, ma con la certezza di un ampio parcheggio privato che ti fa risparmiare tempo e stress. Inoltre la farmacia Piano Dati effettua anche il servizio a domicilio. Chiama allo 095 419 2628 per avere i farmaci direttamente a casa tua. Farmacia Piano Dati. Trattamenti dermoestetici per il viso e tricologici per ogni esigenza dei tuoi capelli, con l'ossigeno per dermoinfusione. A Piano Dati. Acireale in via Ispica 29. A disposizione per ogni vostra esigenza. Villa Grazia. Due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia. Una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via Provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it Illustrati questa mattina da Cireale nella sede Vescovile, i contenuti dell'iniziativa Eco Museo denominato Del Cielo e della Terra. Si tratta di uno dei progetti autorizzati dalla Regione. Presentato questa mattina da Cireale nella sede del Palazzo Vescovile, il progetto dell'Eco Museo denominato Del Cielo e della Terra, che fa parte di uno degli 11 Eco Musei riconosciuti dalla Regione. Oltre al Vescovo Raspandi, il progetto è stato messo in evidenza nei suoi vari aspetti da Don Roberto Fucile, direttore dell'Ufficio Turismo della Diocesi, e da Marta Ferrantelli, europrogettista. Eco Museo è identificato come Museo a Cielo Aperto, patto con il territorio, centralità della comunità, nell'ambito di un piano di sviluppo territoriale, che vede la comunità al centro di tutte le iniziative che vengono fatte, per un riconoscimento concreto del territorio. E dunque per questo motivo il nostro Ecomuseo, che prevede una relazione territoriale forte, identitaria, è collegato al Parco Culturale Ecclesiale, a tutte quelle attività di collegamento tra valorizzazione del territorio, dal paesaggio ai beni culturali e beni culturali ecclesiastici. Ecomuseo è una grossa opportunità di sviluppo in termini culturali, soprattutto, di riconoscimento culturale che il territorio ha delle opportunità, e queste opportunità sono collegate in un sistema ampio di valorizzazione, sia con i beni materiali, noi facciamo riferimento ovviamente al Parco Culturale Ecclesiale, con riferimento ai beni culturali ecclesiastici, che in termini di valorizzazione del territorio, dal paesaggio alla produttività, alla sostenibilità, in termini generali del territorio. Presenti il Presidente del Consiglio Comunale Cese, Sonia Botto, che ha avuto modo di sostenere come si tratta di un'opportunità in grado di integrarsi con il possibile riconoscimento barocco per la città di Ecclesiale, e poi l'Assessore Mario Di Prima. E' intervenuto anche il Vicario Generale, Monsignor Giovanni Mammino. La parola al Vescovo Raspanti, che ha sottolineato come sia necessario un lavoro complessivo di squadra. L'Ecomuseo è un valore aggiunto per il territorio? Sì, perché il soggetto protagonista è la comunità nella sua interezza. Quindi è anche un'opera di educazione che vorremmo svolgere, perché tutti noi che abitiamo questo territorio, che è quello della diocesi, abbia maggiore consapevolezza che quello che fa, quello che ha ereditato, e quello che oggi si sforza di fare, è un valore. E' questo che deve mettere in evidenza è condividere con chi viene a visitare o con chi ne compra i suoi prodotti, quello che produce. E che questa è la vera ricchezza, che noi siamo coscienti di quello che facciamo e lo offriamo agli altri, con orgoglio naturalmente, e con la schiena dritta, e naturalmente con cura però, con grande lealtà al cura, perché se non abbiamo la cura, purtroppo andiamo male e non ci rendiamo simpatici a Trenti nei confronti degli altri. L'Associazione Giovani e Tradizione comunica che domani, alle 10.30 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, come tradizione vuole, sarà celebrata la Santa Messa in latino, celebra padre Andrea Sciacca. Organizzato dalla locale sezione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, sarà invece presente a Santa Venerina un gazebo informativo in piazza Regina Elena, avente per tema le vittime della crisi economica, a partire dalle 18 fino alle 20 di stasera. Saranno presenti nell'occasione i dirigenti provinciali e regionali del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Lo sport, il calcio, si gioca alle 15 allo stadio ACI e Galatea, la sfida playoff tra ACI Reale ed FSI Messina con assenze importanti da entrambe le parti e in tribuna ci sarà l'indimenticato ex Paolo Moncado. Il derby contro il football club Messina è la prima partita di due scontri diretti per i playoff che vedranno i Granati impegnati tra qualche settimana anche a Licata. Una doppia sfida che dirà se e fino a quale punto l'undici di Mister Pagana può ambire a un posto nei playoff. Granata reduci dalla sconfitta di Marina di Ragusa che è apparsa più che altro un incidente di percorso, figlio anche della giornata di grazia del portiere di casa, finito non a caso nella squadra dei migliori undici del girone della scorsa giornata. I peloritani invece vengono dall'incredibile vittoria conquistata a spese del Savoia, battuto 1-0 nei minuti finali grazie a un calcio di rigore ma dopo che i messinesi erano finite in doppia inferiorità numerica per le espulsioni rimediate da Fissore e Carbonaro. Ma nel girone di ritorno hanno fatto meglio gli accesi, sei vittorie e due sconfitte fin qui contro cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte per i messinesi. Nella gara d'andata finì 2-2 e anche in quel caso ci fu una squadra che finì in nove uomini e fu la C-Reale, Granata che erano passati in vantaggio con Rizzo, ripresi da Carbonaro e di nuovo in vantaggio con De Felici e riuscirono a tenere il 2-1 finché i cartellini rossi rimediati dallo stesso De Felici e da Raucci non lasciarono i ragazzi di Pagani in nove. Arrivò a quel punto il gol del pareggio firmato da Fissore con i Granata poi costretti a evitare il peggio fino allo scadere. Sarà un football club messina molto simile a quello che Granata stopparono nella gara d'andata. I peloritani hanno cambiato poco nella sessione di mercato invernale sostituendo il portiere Oliva con Marone arrivato dal Portici e rinforzando difese centrocampo con l'arrivo di Julian Fernandez nelle retrovie e di Geran in arrivo dalla seconda divisione francese in mezzo al campo. Non ci sarà tra le file dei giallorossi anche l'attaccante Alagge ceduto nel mercato invernale. E non saranno in campo domani tre su quattro dei marcatori della partita d'andata oltre a Fissore e Carbonaro nell'undici messinese e mancherà anche Rizzo fermato per somma di ammunizioni dopo la partita di Marina di Ragusa così come Ottvale. Non mancano per fortuna le alternative a Pagana rientra Savanarola che prenderà posto accanto a Wattara davanti con uno tra De Felici e Arena a contendersi il posto lasciato libero da Rizzo più complicato trovare un sostituto a Ottvale nessun altro della Rosa Granata e infatti le stesse caratteristiche dell'argentino nello spezzare il gioco e ricostruirlo in mezzo al campo assieme a B potrebbero quindi giocare Sidibe e Barbagallo qualora Arena averisse schierato sulla linea degli attaccanti con Arena in mediana e De Felici di punta il posto libero a centrocampo se lo giocherebbero uno tra Sidibe e Barcio se Pagana vorrà schierare una squadra più offensiva o Barbagallo se il tecnico opterà per una soluzione più prudente al completo è ricca di alternative la retroguardia dove appare scontata davanti a Pitarresi la linea 4 formata da Silvestri e Orlando Centrali con Mauceri e Cannino esterni e Reucci e Sicignano pronti a subentrare arbitrerà la partita il signor Senturan Liga Morti direttore di gara di origine indiana della sezione di Genova finito nell'occhio del ciclone per aver pesantemente criticato le ragazze in campo durante una partita di calcio femminile ad essisterlo i guardalini e cumbo e campanella di Agrigento si giocherà domani alle 15 con una bella presenza di pubblico sugli spalti ma senza i tifosi messinesi cui è stata vietata la trasferta tifosi messinesi tra cui si registra una novità con un gruppo di ultra che ha abbandonato la CR per sposare la causa del football club presenza gradita anche in tribuna dove sarà ospito un'altra leggenda granata dopo Santino Nuccio tocca a Paolo Moncado alle 15 con la Cireale Football Club Messina si giocheranno anche le partite delle due squadre ancora in lotta per il primo posto con il Palermo che riceve il Nola e il Savoia che ospita il Corigliano alle 14.30 il resto del programma in cui spiccano gli scontri salvezza tra Palmese e Marsala tra Sant'Omaso e Marina e Di Ragusa e tra Castrovilla Ria e Roccella punti in palio per i playoff per il Troina in casa contro la Cittanovese per il Giuliano che riceve il Biancavilla e per il Licata atteso dal derby in casa della CR Messina e adesso uno sguardo ai tornei di eccellenza e promozione trasferte a rischio per le squadre Etnè in eccellenza con la Cicatena ospite della Sampio e il Giarra impegnato a Rosolini in promozione la Cicatena Sant'Antonio contro la Gescal vuole chiudere il periodo no le motivazioni le maledette motivazioni potrebbero fare la differenza per la Cicatena nella sfida di oggi pomeriggio in casa della Sampio a fronte di un 11 catenoto che ha un bisogno disperato di fare punti ci sarà infatti una squadra che ha già finito il suo campionato da settimane troppo lontana dalla zona playoff e a distanza siderale da quella play out un avversario senza obiettivi dunque per una Cicatena che invece deve necessariamente farli i punti dopo le belle prove contro Ragusa Rosolini e Paternò che però hanno portato in casa solo una vittoria punti che servono come il pane perché in coda c'è un programma Enna Atletico Catania il che vuol dire che se i biancorossi non vinceranno finiranno inevitabilmente per essere sorpassati dai gialloverdi all'andata al polivalente si impose la Sampio per 2 a 0 ma era una Sampio ancora in lotta per qualcosa in coda oltre ai tre punti scontati dell'E nel calendario dà una mano ai catenoti visto che lo scordia del girone B di eccellenza e che lo Sporting Pedara ospite il palazzolo in vetta intanto con il Sant'Agata fermo per il turno di sosta al giarre reduce della sconfitta in Coppa tocca l'avversario peggiore i gialloblu rendono infatti visita alla Rosolini che in caso di successo scavalcherebbe Biancazzurri attestandosi al secondo posto e il quarto confronto tra giarresi e siracusani e finora gli etnei non hanno mai perso in campionato deciso un gol di Abate in Coppa ancora Abate firmò il successo esterno nella semifinale d'andata mentre Urso e Franzino sigillarono il pareggio per 1-1 nella gara di ritorno ci sarà quindi un 11 amaranto dal dente particolarmente avvelenato ad accogliere i giarresi che però hanno urgenza di tornare a vincere se non vogliono rischiare di rimanere attardati nella lotta ai playoff dove potrebbe prendere in largo il Ragusa che riceve il Carlentini e vincendo potrebbe accorciare ancora le distanze dal terzo posto chiude il programma di giornata la sfida tra Santa Croce e Real Belvedere che vale solo per le statistiche in promozione dopo una sconfitta a un pareggio l'Aci Sant'Antonio vuole tornare a vincere e il calendario gli fa un favore mettendogli di fronte un avversario sempre ruvido ma non impossibile da superare come la Gescal rischia qualcosa però la squadra di Mister Torrisi che dovrà fare a meno del portiere titolare appiedato dopo il loro rosso rimediato nel derby col Real Aci nella gara d'andata la capolista si impose 2-0 in trasferta e vincere di nuovo domani sarebbe fondamentale non solo perché risolleverebbe umore e autostima dopo due settimane così così ma anche perché di sicurezza dal Milazzo che è atteso dal derby in casa di uno Sporting Taormina che non può permettersi di perdere ancora dietro le prime due della classe infatti si lotta per i rimanenti tre posti negli spareggi promozione e tutte le squadre in lizza sono attese da impegni in trasferta in casa di squadre pericolanti la Ionica Terza rende visita al villaggio Sant'Agata Ultimo l'Atletico Messina Quarto va a Bronte in casa della Ciclope e il Football Club Motta è ospite del Valdinisi in casa anche il Mister Bianco in lotta per la salvezza atteso da un match complicato contro il Calab Tabbiano anticipa invece a oggi il Real Acida trasferte in casa di un'altra pericolante il Messana che deve vincere per provare a staccarsi definitivamente dalla zona play-out gli accesi reduci da un periodo di risultati altalenanti e dal buon punto conquistato in casa contro la capolista C. Sant'Antonio non sono ancora matematicamente certi della salvezza e cercheranno di strappare punti come fecero nella gara d'andata quando si imposero per 2-1 Ritorna dopo due settimane di stop il campionato di prima categoria torna la sfida a distanza tra le due compagini belpassesi giornata sulla carta favorevole al Belpasso secondo che riceve lo Zafferana e punta al sorpasso a spese dei cugini della FSI Belpasso capolista attesa però dal difficile impegno in casa del Militello sfida cui guarda con interesse Laci Buonaccorsi che riceve l'Olimpia Pedara in caso di passo falso del Militello Laci Buonaccorsi potrebbe rimanere da solo al terzo posto in coda rischiano le due squadre di Mascaluccia entrambi attese da sfide non facili in trasferta in casa del riposto in Mascaluccia a Giardini l'Atletico riparte anche la seconda categoria con il guardia impegnato a difendere il primo posto dal Randazzo e dal Santa Venerina gli accesi sperano che la sosta abbia restituito brillantezza persa nelle partite precedenti dove hanno raccolto tre pareggi consecutivi che hanno permesso l'aggancio in vetta da parte del Randazzo e la giornata è favorevole sulla carta proprio al Randazzo che rende visita ad un avversario decisamente più facile di quello che attende il guardia il Campanarazzo ospite del Motta Calcio invece gli accesi il big match di giornata è però quello che vede il Santa Venerina ricevere il Lingua Glossa ricomincia anche la terza categoria nel girone A classifica stravolta dal ritiro della vela che questo fine settimana avrebbe dovuto affrontare Laci e Galatea fermo quindi per un turno di sosta può quindi prendere il largo in zona playoff la playshop ospite in casa della puntese in vetta serrata la lotta per il primo posto con quattro squadre nel breve spazio di due punti big match in programma tra primo e secondo Virtus Etna Maletto nel girone B impegno proibitivo invece per la Stella Nascente che rende visita alla Viola Cerami che la precede in classifica di appena due punti i Sant'Antonesi devono vincere perché l'estrella Catani attesa dal derby in casa della Junior ultima in classifica e in caso di vittoria sulla carta facile scalzerebbe giallo-blu dal quinto posto in vetta intanto continua il duello a distanza tra Gravina primo atteso da un difficile match in casa della Giminica e Vaccarizzo secondo atteso da un meno complicato impegno a casalingo contro educare i giovani allo sport ieri vi abbiamo parlato della vigilia di campionato nei tornei di calcio a 5 e pallavolo maschile nelle altre discipline sportive programma ridotto per questo weekend a causa dell'emergenza coronavirus emergenza coronavirus lo sport si ferma è il caso del basket dove sia in serie C silver che in serie D non si gioca tutte le gare sono state rinviate a data da destinarsi con la C basket che avrebbe dovuto affrontare Adrano mentre il San Luigi avrebbe dovuto ricevere in casa la capolista Castanea nella pallavolo femminile campionato fermo anche in serie C dove la Golden Volley di Acicatena non scenderà in campo mentre sempre nella pallavolo femminile ma nel campionato di serie D girone C regolarmente in campo la liberamente Acicatena che domani con inizio alle ore 18 riceve in casa la polisportiva San Paolo terz'ultima in graduatoria un impegno sulla carta non troppo difficile per le liberelle che settima in classifica vogliono provare a risalire la china dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro la capolista Fratelli di Pasquale in vetta e impegno in trasferta proprio per la capolista che viaggia sul campo del Jaratana Volley mentre la vice capolista Ciclopis riceve in casa il volley Avola e adesso andiamo a chiudere lo facciamo con le previsioni meteo per domani Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata temperature comprese tra i 6 e i 17 gradi 20 deboli mare poco mosso Siamo al termine del nostro TG grazie come sempre per essere stati con noi vi aspettiamo lunedì alle 13.40 per una nuova edizione del nostro reporter buon fine settimana a tutti voi buon fine settimana